Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti per lo Spirito più ardenti, che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli di vuole. Perciò, Sovrana Regina, te mi affida affinché guidi i miei passi nel Regno del Potere Divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, tu che sei amore, sia santificato il tuo volere. Venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo, sia gloria nei nostri cuori in terra. Donaci tre panni della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere insegnaci il tuo perdono. Per essere perdono ai fratelli, per essere perdono ai fratelli. Donaci tre panni della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere insegnaci il tuo amore. E libera esci da volere umano. Dal libro di Cero, volume undicesimo, capitolo 50, 24 marzo 1913 Mi sentivo un certo scontento per le priazioni del mio sempre amabile Gesù e lui venendo appena mi ha detto Figlia mia, che fai? Io sono il contento dei contenti Stando in te e sentendo degli scontenti ti vengo a riconoscere che sei tu e quindi non mi riconosco solo in te perché gli scontenti sono parte della natura umana, non divina mentre la mia volontà è che l'umano non più esista in te ma solo la mia vita divina Aggiungo che pensavo tra me e la dolce mamma e Gesù mi ha detto Figlia mia, alla mia cara mamma mai sfuggì il pensiero della mia passione ed a forza di ripeterla si riempì tutta, tutta di me Così succede all'anima, a forza di ripetere ciò che io soffri e gli viene a riempirsi di me Capitolo 51, 2 aprile 1913 Stando tutta afflitta per le obrigazioni del mio dolce Gesù Gesù venendo da dietro le mie spalle mi ha steso la mano alla bocca allontanandomi le lenzuola che mi stavano vicino tanto che mi impedivano di uscire libero il respiro e poi mi ha detto Figlia mia, chi fa la mia volontà è il mio respiro e contenendo il mio respiro tutti i respiri delle creature da dentro l'anima che fa la mia volontà somministro il respiro a tutti ecco perché ti ho allontanato le lenzuola perché mi sentivo anch'io inceppata la respirazione ed io Ah Gesù che dici mi sento piuttosto che mi hai lasciato e tutto hai dimenticato delle tante promesse fatemi e lui Figlia mia, non mi dire così che mi offendi e mi costringi a farti provare davvero che significa lasciarti poi ha soggiunto con un'aria tutta dolcezza chi fa la mia volontà rappresenta al vivo il periodo della mia vita sulla terra che mentre esternamente parevo uomo nel medesimo tempo ero sempre il figlio di letto del mio caro padre così l'anima che fa la mia volontà esternamente tiene la pelle dell'umanità al di dentro si trova la mia persona inseparabile come me nell'amore e nella volontà della triade sacrosanta sicché la divinità dice questa è un'altra figlia che teniamo sulla terra per amore di questa sosteniamo la terra perché fa in tutto le nostre veci capitolo 52 10 aprile 1913 questa mattina il mio sempre amabile Gesù è venuto ed abbracciandomi al cuore mi ha detto figlia mia chi pensa sempre alla mia passione forma nel suo cuore una sorgente e quanto più vi pensa tanto più questa sorgente si ingrandisce e siccome le acque che sorgono sono acque comuni a tutti così questa sorgente della mia passione che si forma nel cuore serve a bene dell'anima a gloria mia e a bene delle creature ed io dimmi mio bene che cosa darà in compenso a quelli che faranno le ore della passione come tu me le hai insegnate e lui figlia mia non le riguarderò come cose vostre ma come fatte da me vi darò i miei stessi meriti come se la stessi soffrendo in atto la mia passione e gli stessi effetti a seconda della disposizione delle anime questo in terra premio maggiore non potrei dare loro e poi in cielo me le metterò di fronte saettandole con saette d'amore e di contenti per quante volte hanno fatto le ore della mia passione e loro saetteranno me che dolce incanto sarà questo a tutti i beati passo aggiunto il mio amore è fuoco ma non come il fuoco materiale che distrugge le cose e le riduce in cenere il mio fuoco vivifica perfeziona e se brucia e consuma è tutto ciò che non è santo i desideri gli affetti i pensieri che non sono buoni questa è la virtù del mio fuoco brucia il male e dà vita al bene sicché se l'anima non sente in sé nessuna tendenza al male può essere certa che c'è il mio fuoco se poi sente in sé fuoco e mescolamento di male c'è molto da dubitare che non sia il mio vero fuoco bene ci addentriamo con l'aiuto dello Spirito Santo alla scuola di Maria Santissima dentro queste brevi e intense lezioni odierne di Gesù articolate sono legate un pochino da un da un piccolo filo che lega il primo e il terzo capitolo che è l'accenno nel primo l'approfondimento nel terzo alla passione del Signore il primo si chiudeva dicendo a forza di ripetere ciò che io soffri l'anima viene a riempirsi di me e nell'ultimo abbiamo sentito delle parole stupende dette da Gesù su chi fedelmente e costantemente impara a pregare con le ore della passione che tutti sappiamo non è semplicemente una meditazione sulla passione di Gesù ma è molto di più come certamente a primo modo di di rimeditare la prima cosa Luisa come sempre questa è una costante ormai chi legge gli scritti delle volte ha anche qualche come dire gesto di non dico ecco impazienza ecco neanche fastidio ma un'espressione del tipo siamo alle solite nel senso che molti capitoli si aprono sempre trovando nel mio solito stato mi sentivo di morire per le privazioni per le assenze del mio Gesù quasi tutte sono tutte quante così quasi tutte molte sono sono così no? abbiamo già visto tante volte quanto questo sia comprensibile quanto questo sia una grande pena eccetera no? però molte volte proprio da questo Gesù trae spunto per qualche insegnamento delle volte non non se la fila per niente insomma lui si comincia a parlare di altro altre volte come per esempio qui al principio del capitolo 50 invece proprio da questo trae occasione per un piccolo insegnamento ed è questo io sono il contento dei contenti e quindi che significa? significa che se dentro la nostra anima noi facciamo albergare qualche scontento fosse anche comprensibilissimo e giustificatissimo come questo di Luisa diamo vita alla nostra componente umana e non divina quindi non bisogna secondare nessun questo significa per noi operativamente non bisogna secondare in nessun modo nessun pensiero di scontentezza essere contenti non vuol dire cioè che non si stia momentaneamente in atto soffrendo ripetiamo che le sofferenze delle reazioni di Gesù per chi ha avuto queste cose sono delle cose atroci ecco però il problema la contentezza o non contentezza è la nostra reazione psicologica emotiva alla situazione di sofferenza cioè Gesù non c'è e io sto tanto male fino a questo non c'è niente di male non è un problema perché anzi Gesù è ovvio che sia così d'accordo e attraverso questi dolori di queste sue anime certamente Gesù trae diletto e anche riparazione per i molti che non se lo firano proprio che non lo desiderano eccetera no il problema è dinanzi a questo io che faccio faccio un bel fiat e por soffrendo ma riconoscendo che Gesù non ci viene perché non ci vuole venire perché lui potrebbe venire ma se non ci viene non ci ha voluto venire e quindi nonostante la sofferenza faccio un bel super fiat e mi metto sereno godendo anche paradossalmente di questa cosa che pur essendo dolorosa ma è sua volontà quindi è sua volontà senza dubbio su questo proprio non c'è proprio nessun dubbio immaginato un'anime che vive una cosa di questo genere non è che può tirare giù dal cielo Gesù su queste cose quando quando si entra in questi campi se Gesù scende bene ma se no nessuno può salire andarla a trovare no quindi ed è proprio un atto assolutamente proprio certissimo della sua volontà quando si hanno queste vicende sopranaturali o c'è Gesù o la persona fuori di testa oppure c'è il diavolo ma sicuramente non è come dire una creazione naturale ecco certamente no ci deve essere qualche squilibrio mentale perché non potrebbe altrimenti accadere una cosa di questo genere no e quindi la contentezza non significa stato psicologico ecco di 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 diletto o di divertimento d'accordo o che tutto è conforme a quello che io desidero e quindi sto godendo in atto questo sarà così in paradiso qui non è così ecco ma significa che la forza che ha il rimanere sempre uniti ai divini voleri qualunque essi siano produce quella profonda contentezza dell'anima che appunto corollario di quella quiete perché sto nella divina volontà e quindi non mi discosto neanche le spingere certamente l'anima può sicuramente Luisa lo faceva quindi può interloquire ecco con questi chiamiamoli giochi d'amore che fa il cielo invocando Gesù certamente desiderandolo certamente questo lo si può fare anche in nella nostra comune vita ordinaria quando avvertiamo i momenti di di distacco di di aridità ma un conto è esprimono un desiderio un languore d'amore unito sempre alla divina volontà un conto è lamentarsi oppure intristirsi pensare a quanto era bello quando Gesù c'era e adesso non c'è più e addirittura passiamo al secondo paragrafetto uscirsene con una frase insomma che anche questa è la frase di un'innamorata insomma che sta male in assenza dell'amato no però Gesù qui la rimprovera un po' Luisa perché dice mi sento piuttosto che mi hai lasciato e hai dimenticato tutto delle tante promesse fatemi qui diciamo che il lamento di amore va un po' oltre ecco e Gesù la rimprovera queste sono uscitine certamente dalla divina volontà e anche se dentro l'orizzonte dell'amore ecco fanno tenerezza noi che le leggiamo però lo sono da un punto di vista oggettivo e Gesù dice figlia mia non dire così che mi offendi e mi costringe a farti provare davvero che significa lasciarti cioè l'assenza diciamo così sensibile straordinaria insomma in cui Luisa stava a parte il fatto che non era poi così tanto diffusa perché comunque ogni tanto Gesù si fa sentire dall'interno gli parla gli dice qualcosa quindi non è che dice se state dieci anni in silenzio stampo assoluto quindi certo erano un pochino in date con un po' col contagocce perché insomma dal 24 marzo al 2 aprile sono dieci giorni tu dici ma magari a me mi apparisse la vostra signora una volta ogni dieci giorni capisco quindi lo penseremo tutti quanti però insomma dentro quell'orizzonte bisogna anche mettersi da quel punto di vista però ecco si può rischiare anche in questo di di fare qualche uscitina e quindi subito Gesù la riprende vedete come come si può uscire dalla divina volontà questa è la cosa importante che bisogna ritenere per noi anche sotto l'apparenza di bene no? sta facendo di male questa poveretta sta desiderando Gesù vuole che Gesù torni quindi questa è una cosa buona sì purché la si faccia in un certo modo e quindi questo dobbiamo tenerlo presente anche nella nostra vita diciamo comune e ecco poi è molto molto bello un'espressione che Gesù dice da questo episodio un po' grazioso del sistemare allontanare le lenzuola che impedivano a Luisa di respirare queste sono le espressioni veramente forti insomma di Gesù che danno molto a pensare che fanno pensare appunto come quando si è uniti alla divina volontà quindi si è uniti alla santissima umanità di Gesù avviene questo fenomeno veramente del tutto splendido sconcertante che lascia senza senza parole chi fa la mia volontà è il mio respiro e quindi evidentemente il respiro di Gesù lo dovremmo mai ricapito il respiro del figlio di Dio fatto uomo contiene tutti i respiri e quindi è il principio di somministrazione dei respiri di tutti e quindi se un'anima che fa la mia volontà e chi si vuole si fonde col mio respiro respira malamente mi inceppa la respirazione sono realtà sublimiche di cui certamente ce ne sfugge la percezione sensibile perché nessuno si rende conto di una cosa di questo genere il non rendersi conto di una cosa teniamo sempre presente che non è specie nelle cose chiamiamole spirituali assolutamente criterio né di giudizio né di discernimento perché basti sempre a pensare che nessuno si rende conto di quello che si vive quando stiamo celebrando o partecipando alla Santa Missa non facendo la comunione io almeno insomma non ho o non ho ancora questa grazia insomma di come dire di questa immedesimazione tale come un padre pio insomma che durante la la Missa viveva la la passione no per quanto uno cerchi di starci con la testa con il cuore cerchi di avere la Missa con tutta la devozione che può con tutto quanto l'amore che può però rimane qualche cosa che va al di là cioè tutti siamo consapevoli che se uno si rendesse veramente conto di quello che succede durante la Santa Missa moriremo di gioia moriremo di amore moriremo forse anche di dolore di compassione nei confronti di ciò che Gesù opera no ecco questo per dire che la mancata percezione sensibile insomma della realtà di certe cose non ne toglie il valore no pensiamo a quando riceviamo i sacramenti quando il sardote ci assolve noi non non avvertiamo una risonanza sensibile no ecco gli effetti anche della vita sacramentale sono operano su un livello superiore sono certo se uno fa una buona confessione poi generalmente spesso accade che avverte una certa leggerezza dell'anima un certo benessere interiore si è fatto una buona confessione ma non è qualche cosa che appena il sardote dice io ti assolvo tu senti vissà cosa ecco quindi il sentire non è un buon criterio di discernimento sulle cose dello spirito ancora Gesù prosegue in questo secondo capitolo dove spiega alcune caratteristiche delle anime che fanno la sua volontà dicendo che questo è un pensiero abbastanza già conosciuto diciamo così nella tradizione ascetica che chi fa la divina volontà in un certo senso fa proseguire ecco la sosta terrena di Gesù o se preferiamo riproduce ecco in sé gli anni della vita terrena di Gesù non soltanto perché ne ripete fedelmente gli esempi ecco ma anche perché ecco Gesù fa questa metafora quando si vedeva a me si vedeva un uomo ma non si vedeva insomma che continuava ad essere l'eterno figlio del padre è così questo l'abbiamo visto tante volte l'anima che fa la divina volontà non ha delle stravaganti o appariscenti caratteristiche connotazioni esteriori posteriormente non si percepisce nulla perché la vita nel divino volere è tutta quanta interiore salvo come si percepivano insomma alcuni tratti divini ecco che traducevano dall'umanità di Gesù così si vedono le virtù messe in atto insomma da chi vive nel divino volere ecco ma nulla di di altro no e tuttavia il bene che che tale vita fa ridonda a beneficio dell'umanità intera no per amore di questa sosteniamo la terra perché fa in tutte le nostre veci ecco dice la la dignità importantissima e guardate che sicuramente adesso nella io questo l'ho sempre pensato l'ho tante volte detto in questo momento cioè mentre stiamo facendo questa meditazione la stiamo ascoltando indifferita sul pianeta terra ci sono sicuramente delle anime sante che fanno la divina volontà speriamo altre che addirittura anche ci vivono e che sono sicuramente coloro che sostengono un po' come il dipinto di Giotto insomma San Francesco che sostiene la Chiesa sostengono non soltanto la vita della Chiesa ma anche la vita dell'umanità intera sono loro spalle questo è sicuro questo qui quindi è un concetto diciamo così antico nella tradizione ascetico e spirituale cattolica e poi chiudiamo con le straordinarie ore della passione ecco numero uno il pensiero della passione di Gesù anche questo questo è un filone spirituale sostanziosissimo antichissimo ha avuto per la verità un grande impulso c'è sempre stato quindi perché il cristianesimo è fondato sulla passione sulla morte di Gesù certamente anche sulla sua risurrezione no ma un impulso grandissimo certamente la meditazione sulla passione l'ha ricevuto in ambiente francescano si dice che San Francesco si era proprio inventato il più esercizio della via cruci nel senso che si era inventato da zero ma si è andato strutturando in ambito francescano adesso siamo alle porte della quaresima la via cruci è esercizio non dico obbligatorio ma assai caldamente raccomandato almeno per i venerdì di quaresima no proprio questo più esercizio che è appunto la meditazione della passione di Gesù e Gesù qui inizia non parlando dell'oro della passione ma anzitutto del pensiero della passione già questo dice Gesù forma nel cuore una sorgente e quanto più ci pensiamo tanto più ci ingrandiamo attenzione che questa è una cosa molto molto importante perché tante volte Gesù ha lamentato noi pensiamo a quante persone non ci proprio pensano non ci pensano mai non ci pensano mai eppure tutti sanno che cos'è il crucifisso non è evento ignorabile il fatto che qualcuno che diceva di essere il figlio di Dio che è venuto sulla terra ha sofferto ed è morto in croce questo è un evento noto ma a questo bisogna pensarci e pensarci intensamente si legge già nella lettera agli ebrei pensate attentamente a colui che ha subito una così grande ostilità da parte dei peccatori si legge perché non vi stanchiate perdendo vita animo cioè alla passione di Gesù anzitutto bisogna pensarci ma pensarci proprio bene con attenzione quindi facendo un oggetto questo è anche poi insomma il fine della via crucis di meditazione cioè quindi rappresentandosi tutto quello che Gesù ha sofferto e poi soprattutto tenendo sempre presente perché ha sofferto e per chi ha sofferto chi ne è la causa durante la via crucis nelle nostre parrocchie insomma forse si canterà qualche canto popolare dove si ripete in quel modo semplice e tanto caro però a mio avviso il Signore sono stati i miei peccati Gesù mio per don pietà questo dobbiamo pensarci perché il pensiero deve suscitare il dolore la compartecipazione alle sofferenze di Gesù e anche il dolore dei nostri peccati perché io ci devo pensare che hanno sputato in faccia a Gesù ma quello è stato fatto per causa mia non per causa di qualcun altro per causa mia questo non è questo è un pensiero che porta certamente poi anche a lacrime profonde ma quando certamente adesso ci si dedica con attenzione e non pensarci mai è colpa noi non possiamo non pensare a queste cose cioè la Chiesa nella sua sapienza perché ci mette anche nell'anno liturgico adesso abbiamo 47 giorni dal giorno delle sceneri fino proprio a Pasqua perché c'è anche poi la settimana santa che chiude il ciclo della Quaresima perché dobbiamo pensarci e durante la Quaresima ci si deve pensare non solo durante la Quaresima perché il senso di questi tempi liturgici è che la Chiesa ci deve portare a concentrarci bene ogni venerdì è tuttora adesso la gente comune dice i venerdì di Quaresima non si mangia la carne no veramente la carne non si mangia mai solo che nei venerdì non di Quaresima la conferenza episcopale italiana ha autorizzato a sostituire quindi l'astinenza dalle carne con un altro gesto penitenziale che però deve essere fatto perché non si può far passare il venerdì senza pensare alla passione e alla morte di Gesù non si può perché è una cosa grossa ecco quindi anzitutto il pensiero ecco e ripeto mentre il pensiero forma una sorgente è solo pensarci a tutte queste cose si ridonda a bene dell'anima a gloria di Dio e a bene delle anime solo pensarci noi sappiamo che però le ore della passione come dice Luisa come tu le hai insegnate hanno un un surplus perché le ore della passione hanno lo scopo di fattenne la divina volontà di farci come dire di farci vicini a Gesù di fargli sentire il nostro amore il nostro ricambio quindi di viverla con lui la passione non come una metafora è come un pio pensiero ma come un atto reale perché fondersi con la divina volontà significa farsi presente annullando i confini di spazio e di tempo esattamente a quello che è successo quindi quando si fanno dei gesti di amore dei gesti di riparazione di cui sono intrise le ore della passione compresi i gesti dei baci alle piaghe di Gesù questi sono episodi che realmente accadono anche se nel mistero ed ecco perché Gesù dice le guardo non come cose vostre ma come fatte da me e vi darò i miei stessi meriti come se la stessi soffrendo in atto la mia passione parole sue e gli stessi effetti a seconda della disposizione delle anime io penso che la portata santificante delle ore della passione per chi le fa e per tutti perché farle ridonda a beneficio di tutti sia davvero una cosa molto ma molto grande e e poi insomma sono molto belle le promesse che Gesù formula a proposito di ciò che andrà in futuro a chi ha fatto queste cose quindi il settarsi reciprocamente d'amore tra l'anima che ha fatto l'ore della passione e Gesù ecco lì si alimenta il fuoco divino dell'amore a contatto con l'ore della passione certamente quello che Gesù diceva sul fuoco che vivifica e perfeziona tutto il bene e brucia e consuma tutto ciò che non è santo e desidera gli effetti pensieri che non sono buoni certamente cosa che accade e che dobbiamo sperare che accada ecco e fino al punto che mano a mano che si cresce nell'unione con il divino volere le tendenze al male che avvertiamo scemano calano ecco diventano sempre meno forti ecco e anche questo è un criterio di discernimento quando le sentiamo un pochino troppo riavvivarsi vuol dire che stiamo facendo delle corpose uscite dalla divina volontà quando le sentiamo invece poco forti e poco vive significa che stiamo vivendo in una buona unione spirituale e operativa con i divini voleri con i divini voleri che possiamo sempre essere tutti contenti le favole concludono sempre dicendo vissero felici e contenti ecco ma sappiamo che il libro di cielo ecco ci insegna una bella favola celeste dove si dice felici e contenti non soltanto dopo la morte ma anche prima della morte tanto quanto ecco la nostra umana volontà non esiste più ecco come facciamo vivere noi soltanto la vita e la volontà divina beh Santa Vergine Maria aiutaci in questo continuo percorso che dilati sempre più in noi la presenza e la sfera di azione ecco della potenza dei divini voleri è sempre più indebolisca inibisca ecco riduca gli ambiti di azione e di danni ecco che combina la nostra volontà umana tienici anche una grande stima delle ore della passione e una grande fedeltà costanza e perseveranza nel non mancare mai ecco la celebrazione quotidiana di almeno un'ora della passione nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria